Appuntamento con le previsioni del tempo su informazioni dell'area previsioni meteo della protezione civile della regione Campania. Condizioni di tempo perturbato sulle regioni centro-meridionali accompagnata da un generale sensibile calo delle temperature. Nello specifico in Campania giovedì 10 gennaio il cielo sarà irregolarmente nuvoloso con locali precipitazioni anche a carattere di breve rovescio soprattutto sul settore meridionale della regione. Le precipitazioni risulteranno nevosi a quote generalmente superiori e 400-600 metri e localmente anche a quote inferiori e si esauriranno nella seconda parte della giornata. I venti ispireranno moderati settentrionali. Il mare si presenterà mosso o temporaneamente molto mosso soprattutto a largo. Le temperature subiranno una generale diminuzione. La visibilità risulterà ridotta sulle zone montuose. Gelate e notturni al primo mattino interesseranno le quote generalmente superiori ai 400 metri e tenderanno a permanere in giornata a quote progressivamente inferiori. Ebbene con questo è tutto. Non mi resta che augurarvi un ottimo proseguimento di giornata. Grazie.